Tello del Cittadino riserva questo spazio all'Adoc provinciale di Taranto, siamo infatti in compagnia del Presidente Domenico Votano. Parliamo di questa alluvione, per così dire, che si è abbattuta su Taranto in data 16 ottobre. Beh, c'era stata un'allerta meteo, quindi già si paventavano i rischi pericoli che poi puntualmente si sono verificati. Però a questo punto tanti annunci, tanti allerta meteo e poi la frittata c'è stata. La gravità della situazione era stata allertata in maniera perfetta da parte di tutte le autorità, protezione civile, prefetto, sindaco, il sindaco addirittura ha annunciato che chiudeva i giardini. La gravità, ben annunciata, però non è stata supportata, secondo il mio modo di vedere, e penso anche di altri cittadini, da tutte le forze che sarebbero dovute entrare in campo per arrivare a questa situazione. Personalmente ho vissuto due ore di tragico tragitto. Io sono partito dal molo polisettoriale. Per arrivare a Taranto non ho visto un benché minimo segnale che poteva indirizzare gli automobilisti in altra viabilità. Percorso, mi sono fatto molo polisettoriale, punta, ponte di pietra, bloccato. Non sono arrivato là, sono dovuto tornare indietro, ho fatto punta penna, nessun avviso che mi diceva di non imboccare quella strada tra vigili urbani, non c'erano vigili urbani, non c'era segnaletica. Due ore e mezzo per arrivare poi in via Cugini dove c'era il mare. C'era il mare. Questo è dovuto, secondo me, a una mancanza di intervento primario anche nelle polizie di Tombini. A questo punto io mi domando, ma alla luce di questa allerta meteo, il sindaco non poteva disporre la chiusura delle scuole, la chiusura di quelle arterie stradali pericolose. Penso a tutti i sottopassi che poi si intassano e abbiamo i laghi. Sì, dalle prime mattine non è stato predisposto nessun presidio, non c'era nessun presidio. Sulle scuole è il lato che è intervenuto subito con la sua nota, chiedendo il perché e il motivo non è stata disposta alla chiusura preventiva delle scuole. A prima mattina, in prima mattinata, vedevo, passando su via la scuola 25 luglio, i bambini immersi nell'acqua. Allora, perché non è stata chiusa? La risposta, questa è la risposta, perché non sono state chiuse le scuole? Si sono filmati in cui un albero di una scuola è accaduto proprio nel plesso scolastico. È una gravità assurda, è una gravità assurda. E io dico, io la risposta rispetto a quanto dice Votano ce l'ho. Purtroppo è un dilettantismo amministrativo a governare Taranto.